Cos'è questo casino? In teoria l'avete visto tutti sto programma, perché siete corsi a casa martedì a cercarlo e a giocarci. Quindi in teoria io sto sprecando il mio tempo. Sto sprecando il mio tempo? Mi ha una domanda troppo chetto. Se voi dite sì professore allora è la risposta giusta, se invece no, sembra la risposta giusta, a me invece è la risposta variata. Io prendo... Credo che si possa tirare giù la versione italiana di questo programma, dove avreste le cose scritte in italiano. Show vuol dire mostrare alta risoluzione, low resolution, high resolution, la grid è solo una serie di righe per poter piazzare con un minimo di indecenza artistica e mostrare come... Clear all vuol dire... Questo oggetto qua è interessante... Vedete che c'è un mirino qua? Ok? Questo vi sta dicendo che ci sono 0 volt in quel punto là. Perché sono 0 volt dappertutto? Perché non ci sono cariche no? D'accordo? Allora io piazzo una carica. Ecco che tutto notato in questo punto ci sono 4,9 volt. Vedete che questo colore rosa, se più vi avvicinate più il colore diventa intenso. E vedete che il valore sta crescendo a 33, qua a 3,1. D'accordo? Poi c'è un'altra funzione molto carina. Quando io piggio questo pulsante plot, plot. Plot the graph. Plot. Plot vuol dire fare il grafico. Poi dopo qualche anno quando lavorerete un po' nel contesto così... Probabilmente finirete per usare una parola plottare. Che non so se mi è scappato di usarlo durante le lezioni. Plottare vuol dire fare un grafico. Io piggio il pulsante plot. Quello che farà è disegnerà il luogo di tutti i punti che hanno lo stesso valore di potenziale autostatico. Quindi cerco di utilizzarlo in un punto dove magari segna 10. Vediamo se ci riesco. 9,9. 10. Ah, il tremolino della mano mi ha fregato. 10. Tutti questi punti hanno 10 volt. Facciamo uno che ha 20 volt. Foot... Ah, ah, ooh. Ah. Ah cabin- Eh? Perché sono delle sfere? Ovviamente questa è la rappresentazione bidimensionale di quello che dovrebbe pensare essere tridimensionale. Quindi sono delle sfere. Perchè questa sfera qua che ha un raggio più o meno alla metà di questo, questo va da 20 a 10, tutti questi punti sono a 10, tutti questi punti sono a 20 Perchè questo qua sembra avere un raggio doppio di questo? Perchè il potenziale va come 1 su R, il campo elettrico va come 1 su R al quadrato Il potenziale va come 1 su R, quindi se io raddoppio la distanza il potenziale viene diminuito, eccetera 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 Appena io metto un'altra carica, beh prima di farlo mettiamo i sensori, dunque i sensori sono cariche positive Quindi io quando lo metto apparirà anche una freccia rossa che rappresenta se volete la forza di Lorentz Siccome queste sono i sensori positivi vedete che ho una freccia che è così, che più mi avvicino, più è grande, addirittura fuori scala La cosa interessante vedete che se volete la freccia rossa è il campo elettrico, diciamo così Quindi supponiamo che la sonda abbia carica 1, allora no, non ci capiamo Quindi vedete che la freccia rossa è sempre localmente a 90 gradi rispetto alla curva nera Quando metterò dentro un'altra carica, queste curve nere spariranno perché ovviamente il programma deve ricalcolare le superfici Quindi se io metto un'altra carica per esempio qua, spariscono e vedete che la forza, aspettate che vi allontano un po' Vedete che quando è vicino a qua la forza domina di questo, è abbastanza ragionevole, quando mi avvicino qua domina quella Quando sono punti intermedi la forza avrà la direzione che avrà a seconda della costruzione della risultante tra questa e questa Vedete che punto è una direzione strana? Non c'è niente qua, perché questo è il risultante della forza che viene da questo e della forza che viene da quello D'accordo? Se metto una carica, continuiamo con le positive Facciamo la gridback, così è più facile per me Adesso si può spostare o non si può spostare Ok? E continuo a metterne Anzi, facciamo così per il momento, non ne mettiamo troppi Non mi piace più la grid La grid è servita solo per disegnarle Ok? Una volta che li ho messi in un posto Guardate com'è il campo elerico Qua quando sono abbastanza Vedete questo è un punto di simmetria abbastanza Cioè questo punto è equidistante da lui Equidistante da lui Equidistante da questo Equidistante da questo E vedete che proprio per questo bilanciamento delle componenti orizzontali Il campo elettrico, se volete La freccia rossa è perpendicolare al piano dove ho messo le cose Se mi avvicino al bordo, vedete? È sbilanciato Perché questo qua ha... Il disegno parla da solo Secondo me voi dovete un po' giocare con questo programma E capire Guardate poi interessante Vedete che in un'ampia zona qua La freccia non sembra cambiare molto in direzione Poi disegniamo un po' di potenziale Se io sono molto vicino Ok? Quelli sono i punti che hanno 71 volt Questi hanno 70... Dov'è 71? Dai, dai, dov'è 71 Mannaggia Vicino abbastanza Tra Qua Guardate com'è fatto Se mi avvicino molto È quasi un cerchio È quasi una sfera Se mi avvicino un po' vedete che è distorto Ok? Ok? Metto la grid così lo disegno meglio Ok? 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 Cazzo Grazie Ha toccato il piede Ti ho successo? Vedete? Il campo elettrico è sempre perpendicolare alle linee nere Se hanno ondulazioni il campo deve essere sempre localmente a 90 gradi Qua però vedete qua Vedete che cambia poco la direzione della freccia rossa Quella linea là è quasi dritta Eccetera 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 Allora Vado spegnito adesso Shhh Metto delle cariche a caso Metto un grumo di cariche qua La carica qua La carica qua La carica qua Metto a caso Shhh Dovete immaginare questa quasi come una specie di mappa No? Questa potrebbe essere la mappa di un escursionista Questa Com'è? So show numbers Shhh 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 Vi esorto ma con molto calore a fare questi giochi E a cominciare ad abituare il vostro occhio a saper leggere questi grafici eh Così magari un giorno se siete in montagna con la carta sopra l'Africa non vi perdete Vedete E di nuovo se piazzo un sensore qua Vedete che è sempre a 90 gradi Sempre a 90 gradi Sempre a 90 gradi Vedete che la freccia rossa sta scendendo Questa curva è a 40 volt Questa qua è a 35 E' a scendere Il campo elettico è a scendere E invece qua com'è? Vedete? Sempre a scendere Sempre a scendere Perché questa è la carica negativa Quindi questi sono 3 volt Questi sono meno 36 Il campo elettrico è sempre a scendere Sempre a scendere Sempre a scendere Le cariche positive sono in cima alle montagne Le cariche negative sono nelle valli Ma il campo elettrico è sempre a scendere Lo vedete? Sempre a scendere Giocateci Qua il campo è molto intenso Perché nel curve di livello Sta andando Guardate Questo è 29 Questo è 21 E questo è 19 Va bene Non è che cambiano tanto Però capite? Va bene? Giocateci Pensate Faccio le scape Distribuzioni consigliate Fate un dipolo elettrico Questo qua Questo è un dipolo elettrico semplice Sono due cariche puntiformi Questa è una distribuzione di carica Che ha un momento del dipolo Ma non è un dipolo a rigore Hanno le stesse cariche Ma non sono puntiformi La distribuzione è un po' a tubero Però la carica totale è zero Carica totale di un dipolo è zero Anche questo è totale zero Questo qua si chiama un quadrupolo Carica totale è zero Poi le cariche lineari E le cariche E quella che ho appena fatto Assieme a voi Giocateci Mi raccomando Giocateci È importante Questo è quello Di nuovo È una figura fissa Che ho fatto io Vedete che qua in mezzo Come le linee potenziali Sono Io non mi ricordo Che non ho messo giù Purtroppo Non ho fatto show numbers E non appaiono i numeri Quindi io non so Se non appaiono i numeri Quali sono le differenze Potenziali Però probabilmente Quando l'ho costruito Casomai la versione nuova Che farò E metterò i numeri Così potrete vedere Che c'è una progressione Lineare Graduale Ma in maniera progressiva Del valore Del potenziale elettro statico I valori alti Sono qua I valori bassi Quindi questa è una zona Dove il campo elettrico È abbastanza uniforme Più vi avvicinate ai bordi Più il campo elettrico Non è uniforme Loro hanno un'altra possibilità Di mostrare Il campo elettrico Però Il campo elettrico Viene con queste specie Di poli elettrici Che si orientano Quindi voi potete Visualizzare la forma Del campo Quello che cercavo di esprimere L'altro giorno Quando voi Maleducatamente Avete fatto il casino Ok? Quindi queste sono le superfici Potenziali Vedete che non sono dei cerchi Questo non è proprio un cerchio È un po' schiacciato Un po' deformato Più vi avvicinate Se io facessi il dipolo Se io facessi il dipolo semplice Vediamo Questo è un quadrupololo Allora Voglio farvi il dipolo assieme Dov'è? È questo qua È questo che è nato Dobbiamo poterlo Allora Grilde 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 Facciamo Grilde Tac Facciamo Tac E Toglio il grilde Metto No Se sono molto vicino Sembra quasi Non mi piacciono i numeri Ostruisci Se sono molto vicino È quasi un cerchio È quasi un cerchio È quasi un cerchio Molto vicino Più mi allontano Più si deforma Vedete? Più è deformato Quello simmetrico Sarà un po' un problema Se non prendo nota Dai numeri È ovvio che sarà improbabile Che io riesca a fare Un disegno simmetrico Dovrei prendere giù I valori numerici E piazzare il mirino In punti appropriati In modo che il disegno Sia simmetrico Rinuncio a farlo E vado un po' liberamente Vedete che aspetto ha? Questo è il potenziale elettrostatico Di un dipolo Poi c'è uno Da qualche parte C'è 0 volt Vedete? Quasi 0 Eccola Tremolione No Zoom Tutti questi punti Che sono Questo punto qua È l'asse di simmetria Del dipolo Questo punto qua Dov'è la mia fraccina È equidistante da questo È equidistante da quello Quindi qual è il potenziale là? Perché è 0? Brutta cosa l'età Perché è 0? Domanda da due punti Perché è 0? Perché è 0? Due punti Questa è la carica Questa è la carica Positiva Q E questa è la carica Negativa Q Meno Q E questo è il luogo di punti Che sono equidistanti Perché in questo punto Il potenziale è 0? Prima cosa devo dire che la costante È uguale a 0 Cioè sto dicendo che il potenziale Per R uguale a infinito Vale 0 E quindi il potenziale In questo punto È uguale a Q A costante elettrica Q Diviso la distanza Dalla carica positiva A meno costante elettrica Dalla carica Di Q Dalla distanza Dalla carica negativa Questo è il comune Quindi ho K E Q 1 Più la distanza Dalla positiva Meno 1 Sulla distanza negativa Quindi in un punto qualsiasi Se chiamo questa la distanza Dalla carica positiva E questa la distanza Dalla carica negativa L'espressione del potenziale In questo punto È data da questa espressione Ma in questo punto Dove la distanza Dalla positiva Dalla negativa Sono uguali Allora questo è RAC Cioè questo è P P sul piano di simmetria P elemento Del piano Simmetria Quindi questo piano Infinito che esce dalla lavagna Che è il piano di simmetria È un piano equipotenziale V uguale a zero Quindi se io metto una sonda qua Com'è il campo elettrico A questo punto? A 90 gradi rispetto a quella E in che direzione andrà? Ok? Se io mettessi un dipolo là Sarebbe orientato così Non mi piace molto questa rappresentazione Più tenue è ovviamente dice che il campo si debolisce Preferisco questa Dove io metto le sonde Una bestia là in campo Vedete? Qua il campo è così debole che la freccia rossa è più piccola del diametro della pallina Della pallina E là sotto Eccola Vedete? Ok? Molto carino questo programma Secondo me ognuno di voi dovrebbe giocarci un po' Ma giocare nel senso di cominciare a toccare con mano cos'è un gradiente Come una volta che io dispongo le cariche in modo arbitrario Vengo quasi a disegnare un paesaggio dove le colline, le salite sono dovute a cariche positive E le valli sono dovute a cariche negative Ma attenzione Io ho bisogno di avere Dov'è il cursore? Ho perso il cursore? Il cursore? Ecco Dove c'è una carica positiva sarà in cima Dove c'è una carica negativa è un ovale Ma dovete ricordarvi che questa zona qua vale l'equazione di O plus Va bene Chiudiamo questa cosa qua E volevo farvi vedere che Salva? No Oggi ho messo dentro una nuova versione perché c'era un errore di stampa Beh questo lo voglio far vedere non perché mi interessa farvi vedere la prima lezione Ma c'è una figura che è molto carina Questa ripercorre tutta la storia dell'orologico Guardate sul file se volete ricordarvi la storia iniziale Comunque Questi sono semi d'erba Immersi in un olio L'olio è un isolante E ci sono dei pezzi di metallo che entro dentro Che sono carichi Cioè questi sono dei terminali Sono carichi eletticamente E quindi questi pezzi di metallo creano un campo elettrico E i semetti si polarizzano E si girano, si orientano Come le limature di ferro farebbero un campo magnetico E quindi voi vedete Questa è un'invenzione di Faraday Oltre a fare la limatura di ferro ha fatto anche i sementi Quindi avete questi dipoli elettrici Che essendo in un fluido viscoso A un certo momento si assestano E stanno fermi nella direzione del campo elettrico Nel punto dove il semino è messo E questo per esempio vedete con una certa difficoltà Un po' di immaginazione Il campo elettrico di un dipolo Vedete? Questo è un po' probabilmente positivo Non so quale sia il positivo o il negativo Ma vedete che hanno segno opposto Qua invece hanno segno uguale Lo vedete? Anzi forse è il caso di tornare al programma di prima Io vedo che questi e questi hanno segni uguali Vedete come è fatto il campo? Guardatelo poi Torniamo sull'altro programma prima Guardate la figura Questo è carino Se voi prendete questo pezzo di metallo Ci mettete sopra delle cariche Il campo elettrico fuori c'è Dentro non c'è Ma anche qua Di forma qualsiasi Dentro non c'è il campo Fuori si Queste sono due piastre Questa è una piastra Carino eh? Però questo è il caso dell'immatura L'immatura di ferro Vedete qua c'è una chiave Questo è un solenoide Vedete qua dentro le linee sono dritte Quindi è un solenoide E' un modo per fare un campo magnetico uniforme Questo è un'aspira circolare Vedete le linee come sono messe Questo è il filo retilineo Ok Questo lascio a voi guardarlo Vorrei tornare brevemente su questo qua Dov'è? Non lo vedo più Perché guardo là quando è così grande qui? Allora vado su presentazione Da l'azione positiva Mettiamo una carica positiva E una carica positiva Ok Vediamo High resolution No Dovrei mettere così tanti Da riuscire ad aiutarvi a visualizzarlo Ma è difficile fare Perché dovrei avere una pazienza che non ho Ma forse si riesce a visualizzare meglio Se metto le linee di livello Non vi pare? Perchè? Perchè non me lo fa? Perchè in concluso sta facendo qualcosa? Cocù? Antivirus forse Fai qualcosa? Non me lo plotta Perchè? Non me lo plotta Perchè? 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 Forse c'è un baco Vedete? Perchè? Cominciate a visualizzare un po' com'è fatto questo campo Perchè? Perchè non me lo sta bloccando? Perchè? 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 Allora Vedete? Il sensore qui Perchè? Perchè? vedete com'è fatto, quindi se guardate quella foto dei semini di Faraday vi dovreste convincere che quello era il caso in cui le due cariche erano dello stesso segno va bene, basta ah si, volevo farvi vedere che ho messo su lezione dei Poisson, Laplace salute benvenute c'è un sacco di roba qua lezione elettrostatica tutte le robe che ho fatto questo è Poisson, questo è Laplace qua dentro c'è Laplace prima di cariche proprietà, questa è una cosa che vorrei che voi guardassi da soli non avrei tempo di farlo tutta cosa che fate da soli ve lo chiederò e questo è il metodo statico di divergenza così, tutte queste robe come tac 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 take the gauge di Coulomb no? ok equazione elettrostatica ma è elettrostatica quello che ho fatto alla lavagna eh questo è la soluzione di Poisson nell'elettrostatica e quindi nella maniera elettrostatica la stessa equazione con le debite traduzioni no? invece nel Ro avete J qua ne avete uno qua ne avete tre perchè è un vettore e avete mu0 sopra perchè qua y0 è sotto qua però deve essere chiaro non dimenticate e poi se uno fa tipo una linea una linea di carica tipo un filo di carica sarebbe questo elettrostatica e la maniera elettrostatica è questo ok? stessa equazione interprete con le debite con le debite eh modifiche va bene quello che voglio di cui voglio parlarvi adesso è la legge di Biosavar che in questo powerpoint sono cinque slides guardatele non è una domanda che faccio a chi lotta per i 20 magari è una domanda a chi lotta per la lode quindi se avete ambizioni guarderete se non avete ambizioni non lo guarderete però la legge di Biosavar dovete sapere chi non sa la legge di Biosavar è cacciato ok? la legge di Biosavar è questa qua che adesso vi racconta il risultato e lo scopo di mostrarvi adesso è che non ho voglia di farvi capire ma deve essere chiaro attenzione sono molto serio la storia è come è andata parliamo un attimo dell'elettrostatica Coulomb Coulomb era uno sperimentale lui misurò come si comporta la forza di Coulomb appunto con il suo pendolo a torsione fece delle misure studiò tutto e tirò fuori una legge che era sperimentale poi un grande matematico fosse un matematico di tutti i tempi che si direttava a far fisica Gauss fece l'osservazione che la legge di Coulomb sperimentale poteva essere espressa come una poteva essere dedotta da una legge matematica che era la legge di Gauss la legge di fisica matematica quindi Gauss propone guardate che la legge più importante è la mia legge perché si deduce la legge di Coulomb certo Coulomb l'ha scoperto sperimentalmente ma io riesco a descrivere l'esperimento di Coulomb con una legge fisica matematica che è più generale della legge di Coulomb successe qualcosa di molto analogo in magnetostratica questi due francesi Biot-Savart Biot-Savart erano degli sperimentali e misurarono sistematicamente il campo magnetico prodotto da un circuito filiforme quindi un filo di forma strana percorso dalla corrente e la legge adesso io ve lo racconto vi racconto la legge non come è ottenuta come è ottenuta cioè cosa è successo? che poi dei fisici e matematici hanno detto ma la legge sperimentale di Biot-Savart può essere dedotta dalla legge di Ampere la legge di Ampere è la legge generale non è? ma è addirittura dalle leggi del magnetostratico sono due le leggi magnetostratiche una è che la divergenza di B è zero cioè che B è generabile da un potenziale vettore e dalla legge di Ampere sono le due leggi d'accordo? le due leggi messe assieme possono essere espresse nella famosa equazione tipo Poisson d'accordo? quindi io ottengo la mia A ecco la mia A dove è il cursore? ho perso il cursore eccola questa è la A per un filo filiforme poi cos'è la B? la B è il rotore di A e con dei passaggi matematici io riesco a dedurre la legge di Biot-Savart che era stata scoperta sperimentalmente ma si deduce che è una conseguenza del fatto che il campo il potenziale vettore è questo e ricordatevi che questa equazione è una conseguenza di due leggi la legge della divergenza di B uguale 0 quindi che A è solenoidale e la legge di Ampere che messi assieme davano le leggi Poisson d'accordo? no e guardate come pesci rossi questa qui è la conseguenza di aver messo assieme questa che è la legge di Ampere e di aver messo questa che è la conseguenza di essere solenoidale li metto assieme l'ho fatto in classe quindi non mi dovete guardare con l'espressione più scelosso ed educo dov'è il cursore? eccola ed educo questo questo ha lo stesso aspetto dell'equazione di Poisson quindi quello che ho imparato in Poisson in elettrostatica lo riciclo per un tubero di forma strana avrei un integrale di questo tipo se invece di avere un tubero o un filo nell'elettrostatica scrivo questo in elettrostatica scrivo questo quindi io partendo da questo calcolo la B come si fa? calcolo la B facendo il rotore e si deduce dopo un paio di slides la legge di Biotto Savar che voglio raccontarvi adesso chiudo il computer e ritorniamo a fare lezione frontale non ho voglia di prendere il computer del collega e andare in rete per mostrarvi il sito perché credo che sia diseducativo dovete arrangiarvi libernazionale libernazionale in attrazione non ho voglio non ho voglio direnare che non ho voglio direnare ma non ho voglio Grazie a tutti. Allora, ci sono delle cose che vorrei che tutti sapessero, tutti dovrebbero sapere, prima di parlare della legge piosservale e significare che questo funziona, vorrei rinsistere su una cosa. Allora, questo lo sapremo tutti. E quindi dovete sapere tutti che la soluzione per una distribuzione continua di ventità di carica è questa qua. Dovete saperla. Perché la dovete sapere? Perché dovete sapere questo. Per una distribuzione di carica discreta. E per una distribuzione di carica continua. Questa, chi non lo sa, non deve osare venire onorale. Chi non sa passare da questo a questo, non deve osare venire onorale. Chi ha studiato questo, non dovrebbe avere problemi. A. Intanto deve sapere questo. Per sapere l'esimaxe. Chi non conosce l'esimaxe non viene a far orare da me. Certo, da me c'è il fatto che questo è equivalente al fatto che la B è uguale al rotore di A. Questa è una cosa che magari in certi libri elementari non c'è. Nel corso di recupero del collega di Capua non c'è. Nel corso c'è. E quindi voi dovete sapere questo. Dovete quindi sapere che messo questo qui, queste due equazioni possono essere scritte in questo modo. Facendo questa scelta, dovete sapere. E dovete quindi riconoscere che questo è del tutto equivalente all'equazione di Poisson. Che dovete sapere. Chi non conosce l'equazione di Poisson non deve venire all'orale. E quindi queste sono le soluzioni di questa. Le abbiamo costruite a mano. Quindi voi conoscete la soluzione di questa. Che è questa qua. Quindi questa è una cosa che siccome tutti dovrebbero sapere. Allora, la legge di osservare cosa dice. Intanto considera un circuito filiforme. Cioè avete una densità di carica che sta fluendo lungo un circuito che ha come un filo. Quindi dovete immaginare il campo V creato da un circuito. Come si scrive filiforme? Fili? Così? O filo o forme? Filiforme. Questo non è. Quindi dobbiamo accorredare con un disegno. Immaginate che questo sia la vostra origine. Questo è il punto matematico. Prima disegniamo il circuito filiforme. Eccolo qua. Ovviamente continuerà. E deve ovviamente fare tutto il giro. Anzi lo disegno. Così è ancora più chiaro. Questo è un circuito filiforme. All'interno della quale ci c'è una densità di corrente. Ci sono dei portatori di carica che stanno con la loro velocità di deriva facendo il giro. E scegliamo la direzione. Cioè dobbiamo decidere qual è la direzione di questa corrente. Come sta fluendo la corrente. Allora immaginate che la corrente stia girando in senso vagamente orario. D'accordo? Mi piace qua un investitismo. La corrente sta girando in senso vagamente orario. Io voglio il campo magnetico in questo punto. In questo punto. In questo punto. In questo punto. Allora il campo. Cos'era? Cosa è accaduto? Un piccione? Un piccione. Un piccione? Un piccione. Mi è successo un paio di fatti. Stavo camminando. Giro. E mi è mancato per così un piccione morto. Cioè ho un morto di qualche malattia strana. Che so. Una vecchiaia. O magari qualcuno gli ha tirato una cucinata con l'aria compressa. Confesso di aver sparato uno scogliattolo da piccolo. Con un fucile d'aria compressa. Il punto P. Questo è il punto P. Dov'è? Rispetto all'origine. La posizione è indicata dal vettore posizione. Eccolo qua. Track. Questo è il vettore R del punto T. Adesso io voglio scrivere l'equazione di Biot-Savart. La scancello qua e la scrivo. Così abbiamo il disegno. Prima la scrivo e poi vi dico come leggerlo. Shhh! Da dove viene l'esempio di Biot-Savart? Non viene da chissà dove. Viene dall'equazione di Maxwell. Si deduce l'equazione di Maxwell. Questa è la lezione che voglio darvi. Non è un'equazione o una legge sperimentale che non ha nulla a che fare con la questione di Maxwell. È una conseguenza. Viene da qua. Che viene da qua. Che corrente sta girando in questo signore qua? La corrente che sta girando la indiciamo con la I. Cos'è la I? La I è una corrente. Cos'è una corrente? È un flusso della densità di corrente dove la S è la sezione del filo se volete. Cioè è un'area che è la sezione del filo. Per esempio questa sezione qua. se voi fate una zoomata qua. Avete il filo con i vostri portatori di carica che stanno faticosamente con la loro velocità di deriva muovendosi. Questa è una sezione del filo. Quella superficie là. Il flusso della densità di corrente attraverso quella superficie è la corrente. D'accordo? Quindi la corrente che appare con I è la corrente del filo. Quindi qua la corrente I. Cos'è la corrente? La corrente è il flusso del J attraverso la superficie della sezione del filo. La piossa va, la scrivo e poi la commento. Scrivete e poi la commento. Questa è una resa di osservato. D'accordo con i seguenti disegni. Gesso colorato. Questo è un pezzo di filo. DL è un trattino, un piccolo tratto di filo lungo DL' Adesso la corrente sta girando così. Quindi questo DL lo faccio diventare un vettore. Ci metto la freccia sopra. Cioè è un trattino orientato. E l'orientazione è quella che viene dalla direzione di circolazione della corrente. Quindi se la corrente sta girando così, Quindi questo trattino ci metto una piccola freccia. Ci metto la punta. Ok? Ci metto la punta. E lo faccio diventare un vettore. E l'orientazione del vettore. E l'orientazione del vettore. Ho appena assaggiato i cadaveri di esseri viventi morti miliardi di anni fa. Cos'è il Jason? Questo signore qua. Chi è questo? U di R, se lo scrivo, capirete cos'è? Cos'è U di R? Avrei potuto scrivere. Avrei potuto scrivere invece di questo. Avrei potuto scrivere questo. Anzi qua manco un pezzo. Ho dimenticato la cosa. Qua ecco la potenza 1. Qua ecco la potenza 2. Ok? Qua se io uso questo avrei potuto scrivere con il 3 e questo sopra. La scrivo qua giù. Così la vedete. Dovete notare la rassomiglianza degli argomenti. Le differenze sono importantissime. È ovvio. Però voi dovete sfruttare al massimo le rassomiglianze. Per riuscire a studiare meno. Perchè se vedete le rassomiglianze ecco che le cose che dovete imparare a memoria si riducono. Questo vuole essere una R ma con questa mensoletta faccio fatica. A fare una R. Ok? Quindi questo U di R cos'è? È il versore che va dall'elemento di corrente al punto matematico. Quindi di nuovo dovete mettere nella vostra testa che l'elemento di corrente va pensato come una sorgente di B. Crea B. Una sorgente di B. Creerà in questo punto un B. Allora la U di R è il versore che va dalla sorgente al punto. Quindi se io la disegno in rosso questo è U di R. U di R primo. Cioè va dall'elemento della corrente a DL primo. Dove si trova questo signore? Dove si trova questo pezzo di circuito rispetto all'origine? Lui si trova nel punto, ho un disegno un po' infelice, questo si trova nel punto R primo. E' un po' infelice nel senso che il vettore R primo punta a dove si trova l'elemento di corrente. Quindi chi è questo U di R? Questa è la posizione del punto matematico rispetto all'elemento di corrente. Quindi questo vettore qua U di R è il versore, cioè R primo, scusatemi, R meno R primo. Quello che appare qua lo voglio disegnare in giallo. E' questo qui che va dall'elemento di corrente al punto P. E U di R è il versore di quel vettore. Cioè lo prendo e lo divido per il proprio modulo e ottengo una cosa adimensionale di modulo 1 che si chiama il versore che punta dalla sorgente al punto. Non dimenticate questo. Questi versori che appaiono sia in magnetostatica che in elettrostatica sono vettori di modulo 1 che puntano dalla sorgente al punto matematico che vi interessa. Notate un'altra cosa importante. C'è una dipendenza dalla distanza. E la dipendenza dalla distanza è 1 sulla distanza al quadrato. E questo non dovrebbe stupirvi. In fondo viviamo in un modo tridimensionale. Quindi le cariche o le sorgenti puntiformi, i loro effetti calano 1 sulla distanza al quadrato. Il campo elettrico di una carica puntiforme cala 1 su R quadro. Il campo magnetico creato da quell'elementino di corrente che è arbitrariamente piccolo e dovete pensarlo come puntiforme, è 1 su R quadro. Certo che se prendete tante cariche e le distribuite che so sul piano allora la risultante del campo elettrico di tante cariche puntiforme non è detto che sia 1 su R quadro come lo è col piano, no? Il campo elettrico di un sacco di cariche spalmate uniformemente sul piano non dipende dalla distanza ma dalla carica singola, dalla carica puntiforme la dipendenza 1 su distanza al quadrato. 1 su distanza al quadrato. Perché è così? Perché viviamo in un modo tridimensionale. E' uno dei motivi per cui i fisici seri non credono nelle persone che sostengono dei veri poteri paranormali. Perché i loro piateri sostengono di essere indipendenti dalla distanza. Cioè sono motivi molto profondi per dire che sono puttanate. Se io ho un effetto, sono sorgente di qualcosa allontanandomi l'effetto deve diminuire. Pensateci, va bene. Buttatela dentro l'orecchio o esce dall'altro. Magari tra voi c'è qualcuno che crede nell'astrologia o dei chakra. Queste pietre che se voi le mettete in tasca assorbono tutta l'energia negativa. Oppure ci sono delle piantine che se le mettete vicino al computer assorbono tutte le energie elettromagnetiche. Oppure mettete un cd dentro la vostra macchina che prende il radar della pistola o della cosa anti velocità dei poliziotti. Quanta gente conoscete che ha i cd che dondolano e dicono che incontrano i radar? Allora, l'effetto, il campo magnetico creato da questo assorgente diminuisce 1 sulla distanza al quadrato. Non vi deve stupire. La cosa che vi deve stupire, un pochettino, la cosa un po' difficile all'esempio di osservare è che c'è un prodotto vettore. E questo vi dice che la direzione del campo B in questo punto creato da questo elemento di corrente dipende dal prodotto vettore tra la freccia bianca, la freccia che rappresenta la corrente del circuito e la freccia rosa. Quindi, prima domanda, in questo punto qua, qual è la direzione del campo magnetico creato da questo filo? Esce, intanto è perpendicolare alla lavagna, esce o entra? DL prodotto UR, questo è l'indice, questo è il medio e questo sarà il pollice. DL U di R entra, quindi qua avete un vettore infante creato da lui. Poi, una volta che avete calcolato l'effetto dovuto a questo elemento di circuito, cosa fate? Cambiate l'elemento di circuito, per esempio vi mettete qui, questo è un elemento di circuito. Lo fate diventare un vettore, qual è il verso, dove mettete la punta su quell'elemento di corrente? Visto che la corrente sta girando così, questo ha la punta per i quadri. Adesso dovete disegnare il versore che va da quell'elemento di corrente al punto matematico. Quindi, dovete pensare al segmento che congiunge questo pezzo di filo al punto e il versore è questo. Quindi, qual'è la direzione del campo B in questo caso? DL U entra, anche questo entra, anche qua il contributo dovuto a lui sarà un altro pezzettino di fettore che entra. Quindi, ognuno di questi, potete pensare questo se volete, B come l'opportuno integrale di tanti dB. Quindi, ognuno di questi è, spero che lo capiate, io ho calcolato il contributo di questo, poi devo calcolare il contributo in questo punto di questo, poi il contributo di questo in questo punto. Devo integrare lungo tutto il circuito per avere la risultante. D'accordo? E prima di mollarvi voglio che sia, di nuovo la mia frase ormai tormentone, voglio che sia chiaro, voglio fare un circuito un po' strano. Strano, voglio solo evidenziare, immaginate, non so, un circuito automobilistico dove ci sono, come si chiama, le gradinate, vicino all'arrivo, e c'è un rettilineo. Quindi questo è il rettilineo, poi la strada fa così, ok? Questo è il circuito. Questo punto qua mi interessa, immaginate che la corrente stia girando in senso vagamento orario, guardate questo elemento di circuito qua. Questo è un dl primo, lo faccio diventare un vettore, dove metto la punta? La metto qua. Vi chiedo, questo signore, che campo magnetico crea in questo punto? Qualcuno, veloce, nanosecondo per rispondere, piccol secondo, state già sforando il tempo disponibile. Un millisecondo, un secondo, eh? Perché è zero? Perché U di R sarebbe questo, non è storto, è un prodotto vettore questo. Voi potete avere tutta la corrente che volete qua, ma in questo punto, invece in questo punto, certo che avete un prodotto, perché questo qua vedete che è storto. Questo qua è un altro punto dove magari, la U di R è antiparallelo, quindi questo elemento non contribuisce, perché non è storto. Quindi è un prodotto vettore, ci fermiamo qua, facciamo ora che sia per esempio.